Dall'ufficio delle entrate alla sede dell'Inps cambia la location ma non il contenuto. Dopo il sit-in di lunedì scorso, gli operai dell'indotto dello stabilimento Eni si sono spostati in via Torino dinanzi ai locali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Fermi da tre anni, i dipendenti delle imprese appaltatrici chiedono all'Eni il rispetto degli accordi sottoscritti e l'avvio dei cantieri per la riconversione green della raffineria, passando dal petrolio alla produzione di biocarburanti. Tanti incontri di verifica dell'intesa e propedeutici alla firma di un accordo di programma hanno finora prodotto soltanto una proroga della Cassa Integrazione per i primi tre mesi di quest'anno. La vertenza Gela ormai è diventata una protesta itinerante. Oggi avete presidiato uno degli istituti principali del nostro ordinamento. Sì, siamo qui per dire ancora una volta che bisogna fare in fretta perché questi lavoratori attendono il pagamento degli ammortizzatori ordinari in deroga e uno di quei punti messi a inviare al Ministero è proprio questo accelerare gli iter autorizzativi per il pagamento degli ammortizzatori sociali e non solo, di contribuire anche alle imprese l'accesso agli ammortizzatori sociali perché voglio ricordare ancora una volta che ci sono aziende che possono attivare gli ammortizzatori sociali ma non lo fanno perché il costo è diventato eccessivo con la nuova riforma del lavoro. Quindi? Quindi bisogna decontribuire l'accesso agli ammortizzatori sociali per permettere a questi lavoratori di avere almeno un sussidio. Sussidio che ancora una volta noi vogliamo fosse più breve possibile perché vogliamo l'attivazione di quegli investimenti che sono programmati nel protocollo. Quindi diciamo alla politica regionale e nazionale facciamo in fretta per questi lavoratori che stanno soffrendo. Voi in prima battuta chiedete che vengano riattivati e si possa attingere agli ammortizzatori sociali ma in realtà il vostro obiettivo è l'investimento serio? Non vorrei che questo sitino all'Inps passi il messaggio che i lavoratori sono qua per gli ammortizzatori sociali. È evidente che sono qua per la vertenza Gela che è man mano increscente. La sede dell'Inps è una sede istituzionale in cui ovviamente rientrano nella vertenza Gela che le date importanti voglio ricordarlo sono quelle del 18 e del 24 al Ministero. È chiaro che ci sono qua lavoratori che stanno ancora arrancando con gli ammortizzatori sociali che sono in scadenza. Emblematicamente chiaramente la sede opportuna è anche quella dell'Inps. Niente togliente al lavoro che stanno facendo i funzionari dell'Inps. ma è chiaro che bisogna anche sburocratizzare e rendere più celere determinate pratiche affinché i lavoratori non arrancano con tutte le situazioni che ci sono.